Ciao, qui Gabriele Dontini, fondatore di Architetti Freelance e gli specialisti del marketing per professionisti e studi. Questa settimana abbiamo due novità. La prima è che il training settimanale che noi rilasciamo su questi canali, quindi su YouTube e su Instagram e Facebook, riguarda il come fidelizzare i vostri clienti con l'obiettivo di incrementare il vostro fatturato e il numero di incarichi che portate a termine ogni anno. Il training partirà dopo questa piccola introduzione, ma la seconda grande novità è che abbiamo invitato oggi, le persone che ci seguono nella mailing list, abbiamo invitato tutti a iscriversi alla lezione gratuita che sarà online lunedì prossimo, il 6 settembre alle ore 21, dedicata a come rilanciare il vostro studio e farlo crescere nel 2021-2022. La lezione andrà online il 6 settembre alle ore 21 ed è solo per gli iscritti. Quindi per iscrivervi gratuitamente andate nella descrizione di questo video, troverete il link, ci cliccate sopra e riempite il form. Dopodiché riceverete tutte le informazioni via email per poter seguire la lezione. Mi raccomando, fatelo perché i tempi in cui viviamo richiedono veramente da parte dei professionisti un grande focus sui temi come il marketing, la crescita, la pianificazione strategica, anche per creare comunque un ambiente sicuro in cui il vostro studio possa continuare a crescere e prosperare nonostante le crisi, lockdown e gli eventi che possono più o meno, diciamo, in maniera prevedibile succedere. Ok? Quindi siamo a settembre, un mese importante, molti vogliono ripartire. Il posto giusto, il modo giusto per ripartire ne parleremo lunedì, 6 settembre. Mi raccomando, iscrivetevi, andate nella descrizione di questo video e adesso vi lascio al training settimanale. Come fidelizzare i vostri clienti. Ciao a tutti, benvenuti in questo training settimanale in cui parleremo di come fidelizzare i vostri clienti. Ok? Quindi se siete degli architetti, dei designer o dei professionisti nel settore dell'edilizia che hanno magari uno studio tecnico, questa lezione sarà per voi molto molto importante perché in particolare ci focalizzeremo nel cercare di capire come la fidelizzazione dei vostri clienti vi possa portare un incremento di progetti, un incremento di incarichi e di fatturato. Ok? Spesso gli architetti e le persone che si rivolgono a me per il proprio marketing, a me e al mio team, al team di Architetti Freelance, viene da noi con l'obiettivo di farsi aiutare ad acquisire più clienti, tralasciando o meglio dimenticandosi o ignorando il fatto che in realtà avere già una base di clienti è un punto molto importante. Ok? È un elemento importante da cui bisogna per forza partire per realizzare poi una strategia di crescita. Infatti i vostri clienti, ok? E questo è un dato di fatto, cioè il presupposto se non capiamo questa cosa la lezione non ha senso, questo training che vedremo non ha senso. Quindi partiamo da questo presupposto, i vostri clienti sono il bene più importante che il vostro studio ha. Ok? Tant'è che noi lavoriamo, tutti noi, tutti noi imprenditori e liberi professionisti, lavoriamo per trovare nuovi clienti perché ne vogliamo di più. Ma dobbiamo anche fare in modo che i nostri clienti tornino da noi più spesso. perché sarebbe un peccato se dopo che ci siamo fatti un mazzo così per fare contento il nostro cliente che si è ristrutturato casa, fra cinque anni poi si è scordato di noi e va da un altro. Con cui magari non si trova neanche bene, ok? Cioè è un problema nostro questo che dobbiamo risolvere. Ma dobbiamo anche fare in modo che i nostri clienti, ex clienti, ci consiglino agli altri. Va bene? Quindi per questi motivi i clienti che noi abbiamo e quelli che avremo sono l'asset più importante che noi dobbiamo accrescere e coltivare. Ora, quali sono quindi i benefici del fidelizzare i vostri clienti? Allora, uno, ce ne sono tre fondamentalmente, in realtà potremmo dire che sono quasi infiniti, va bene? Però io vorrei che voi vi focalizzaste su questi tre benefici principali. Allora, il primo beneficio è che coltivando la relazione con i vostri ex clienti nel modo in cui vedremo in questo training, ok? Voi riuscirete ad avere, per esempio, più testimonial. Cioè persone che parlano, che magari voi potete utilizzare come casi studio di successo. Potete ottenere delle recensioni positive sul vostro lavoro. E questo è fondamentale nel mondo di oggi per incrementare quella che è la vostra credibilità. Va bene? Quindi avere più testimonial è sicuramente una delle attività, uno dei benefici importanti di questa attività di focalizzazione, di fidelizzazione, scusate, che andremo a fare. Altro obiettivo, avere dei referral. Cioè fare in modo che i vostri ex clienti vi consiglino ai loro amici e conoscenti. Molti credono che il passaparola avvenga in maniera spontanea. Spontanea avviene in maniera spontanea solo in minima parte. Cioè è vero che se un cliente è soddisfatto del vostro lavoro è più propenso a consigliarvi ai propri amici e parenti e conoscenti, va bene? Ma in realtà vanno un pochino spinti a farlo. È difficile, è molto raro che spontaneamente, senza che voi facciate nulla, le persone facciano questa attività di endorsement, cioè che vi facciano da referral, va bene? Referral è la parola inglese per definire proprio questo tipo di cliente che vi consiglia ai propri amici e parenti, quello super entusiasta di voi. Altro obiettivo abbiamo detto, far sì che un vostro ex cliente poi torni da voi in futuro, va bene? Quindi questi tre sono gli obiettivi che noi dobbiamo raggiungere quando parliamo di fidelizzare i clienti. Quindi qualsiasi cosa, se voi dopo questo video volete approfondire e fare una ricerca online per cercare altre informazioni, bene, sappiate che sono tutte stupidaggini se non sono finalizzate, se la fidelizzazione del vostro cliente non ha come obiettivo uno di questi tre principali benefici che voi potete ottenere. Andiamo a vedere un po' di dati. Ci sono alcuni motivi per cui la fidelizzazione ai vostri clienti è fondamentale per la crescita e il successo della vostra azienda. Per esempio, secondo Harvard Business Review, acquisire un nuovo cliente è 6 o 7 volte più costoso di quanto non sia, per esempio, mantenere un cliente esistente, va bene? E per costoso io intendo sia un costo, per esempio, pubblicitario, sia un costo anche come risorse proprio dello studio, cioè i meeting che dovete fare per convincere una persona che voi siete il professionista giusto, va bene? Tutti gli spostamenti, l'opera di convincimento, ok? Quindi acquisire, trovare un nuovo cliente è molto, molto costoso e dispendioso, va bene? Rispetto a invece far sì che un vostro ex cliente torni da voi perché è soddisfatto e quindi è già pronto, va bene? Non dovete fare nessuna fatica per convincerlo di nuovo ad affidarsi a voi. E nel momento in cui voi andate ad operare, come vedremo in questa lezione, ok? Ripeto, questi sono dati dell'Harvard Business Review, quindi prendeteli comunque con una certa... come dire, non sono opinioni, va bene? C'è stata una ricerca dietro questi dati e io vi posso confermare che nella mia esperienza in realtà questi sono anche dei numeri a ribasso, cioè in realtà i benefici sono ancora maggiori. Comunque, se voi lavorate per aumentare anche solo del 5% la fidelizzazione dei vostri clienti, questo porta la vostra azienda, la redditività della vostra azienda a fare da un 25% al 95% in più di entrate, ok? Quindi trovare nuovi clienti è molto costoso, far sì che i vostri ex clienti tornino da voi è molto meno costoso e molto più redditizio. Ti voglio parlare quindi adesso di una strategia che in uno degli studi in cui ho lavorato era stata elaborata, cioè c'era già da prima che io arrivassi, va bene? Solo che io non avevo mai sentito parlare e si chiama il giorno del cliente, ok? Cioè noi la chiamavamo il giorno del cliente e è un'idea in realtà, è un'usanza diciamo americana di cui adesso vi parlerò presa dal cosiddetto Get to know your customer's day, va bene? Cioè negli Stati Uniti, adesso lo andiamo a vedere ogni anno, il terzo giovedì, gennaio, aprile, luglio, ottobre le aziende fanno il possibile per deliziare i propri clienti in occasione appunto di questa giornata di Get to know your customer's day è un'iniziativa che ha l'obiettivo di entrare di ritornare in contatto con i clienti dell'azienda e quindi quelle giornate particolari sono tematiche e sono caratterizzate da delle attività che non hanno l'obiettivo di acquisire nuovi clienti o almeno non direttamente ma hanno l'obiettivo di coltivare la relazione con i propri clienti quindi come vi dicevo in questa grossa azienda dove lavoravo in realtà era un'usanza consolidata noi lo facevamo addirittura una volta al mese perché i clienti erano tanti e quindi non ce la facevamo tutto in un giorno però adesso andiamo a vedere andiamo a vedere come qualche suggerimento su come voi potete applicare questa tecnica allora innanzitutto quello che dovete fare è creare un evento ok? cioè il giorno del cliente dovrebbe essere caratterizzato da un evento particolare che potrebbe essere un giorno di incontro su presentazione di nuovi trend open day dello studio con magari un aperitivo o addirittura oggi comunque io consiglierei per esempio anche dei meeting online in cui si invitano gli ex clienti a partecipare a questa giornata di contenuti in cui si creano dei contenuti e si creano delle relazioni ovviamente la questione il suggerimento del meeting online viene più che altro dalla questione covid ok? soprattutto anche se avete magari clienti che se magari avete un piccolo studio e avete dei clienti fuori dalla vostra zona limitrofa potete pensare di fare questa cosa online secondo suggerimento ok? quindi una volta che voi avete definito questo evento lo avete creato potete proporre ai vostri ex clienti anche di invitare amici e conoscenti questo è un qualcosa di molto interessante perché farete in modo che i vostri ex clienti portino con sé delle nuove persone va bene? a partecipare a questo evento dove fondamentalmente possono entrare in contatto con voi ovviamente devi andare a promuovere l'evento quindi qua entrano in gioco gli strumenti quindi le newsletter i canali social le telefonate dello staff che magari possono avere l'elenco dei clienti con il numero di telefono e chiamarli e invitarli va bene? o assicurarsi che abbiano ricevuto l'invito ok? in questo caso l'attività di promozione ha un senso io posso io per esempio ho sempre detto sui vari canali che usiamo per fare formazione per offrire contenuti ai nostri iscritti di Architetti Freelance ho sempre detto voi non dovete promuovere lo studio voi dovete sempre pensare a promuovere qualcosa di specifico quindi fare marketing online per esempio potrebbe avere un senso nel momento in cui voi usate come canale di acquisizione clienti degli eventi in cui parlate di come ristrutturare casa come errori da non fare quando si ristruttura casa eccetera eccetera invitatele le persone come lo fate grazie al marketing le strategie di marketing servono per convogliare le persone in un evento in una presentazione di eventualmente di alcuni vostri servizi quindi promuovete ovviamente l'evento con tutti i canali che voi avete a disposizione eventualmente questa potrebbe essere un'idea interessante molto utile scusate questo in realtà sarebbe il quarto suggerimento promuovete questo stesso evento anche a clienti potenziali cioè persone che magari erano entrate in contatto in passato con il vostro studio ma con cui non si era concretizzata la collaborazione va bene quindi perché è importante questa è veramente fantastica perché voi andate a mischiare ex clienti soddisfatti con potenziali clienti quindi se il cliente potenziale magari non aveva dei dubbi o per qualsiasi ragione magari non ha fatto quello step in più bene infilandolo in una situazione mettendolo a contatto con i vostri ex clienti soddisfatti non può che venirne fuori qualcosa di ottimo va bene quindi andiamo andando un po' a riassumere voi dovete creare un evento dovrete potete proporre ai vostri ex clienti di invitare amici loro amici e conoscenti dovete promuovere questo evento e poi lo dovete promuovere anche a clienti potenziali che cosa potete attenere in questo modo ok noi per esempio facciamo spesso dei webinar organizziamo delle live sui nostri canali social adesso ok parlo di architetti freelance nell'azienda di prima c'erano degli aperitivi o delle presentazioni magari di nuovi trend eccetera però quello che puoi ottenere sono sicuramente feedback e recensioni sui tuoi lavori ok quindi magari durante l'evento voi parlate con questo potenziale cliente con cui vi siate trovati molto bene gli chiedi come sono andate le cose come si trova nella sua nuova casa se ti dà un feedback positivo gli diciamo senti ma posso chiamare il mio collaboratore che stiamo facendo stiamo rinnovando il sito magari ti fa un piccolo video in cui parli della tua esperienza oppure ti fa lasciare una recensione scritta eccetera eccetera quindi questo è molto importante altro obiettivo che potete raggiungere avere nomi nativi o informazioni su persone che potrebbero avere bisogno di un architetto un designer o uno studio tecnico abbiamo visto che dicendo ai nostri ex clienti di invitare i propri amici e parenti e conoscenti noi otteniamo comunque entriamo in contatto con persone nuove ma anche parlando con le persone noi possiamo dire ma in questo momento hai conosci qualcuno che sta magari pensando di ristrutturare casa se ti dicono di sì vi fate lasciare nome e cognome gli garantite che tratterete con il massimo con la massima professionalità questa persona e poi lo fate contattare dallo vostro staff o lo contattate voi se siete i titolari dello studio e siete la soli ovviamente potete ottenere nuove incariche e progetti perché nel momento in cui parlate con persone e scoprite che stanno pensando di cambiare a modernare o ristrutturare casa potete proporre uno dei vostri servizi di consulenza di design o di progettazione questa strategia che abbiamo visto ha il vantaggio di avere un effetto esponenziale sul vostro fatturato ok cioè da una parte vi può portare e l'ho visto accadere decine di volte c'erano studi che sono venuti da noi volevano acquisire più clienti la prima cosa che gli ho detto è ok andiamo a acquisire più clienti ma fai subito questa cosa perché ti porta ad avere nell'immediato nell'immediato intendo non dall'oggi al domani ma nel tempo in cui riuscite a organizzare questa cosa che può andare tra le due settimane e un mese ok riuscire a organizzare questa cosa avete subito delle liquidità che vi entrano che possiamo reinvestire per acquisire nuovi clienti va bene ma ha un effetto esponenziale perché ovviamente più negli anni più clienti e più contatti avete per organizzare questo tipo di eventi più i risultati arriveranno ovviamente ok quindi prendete molto sul serio queste informazioni mettete in pratica iniziate subito a pensare a che cosa potete creare quali canali potete usare per invitare i vostri ex clienti a partecipare o ai vostri contatti eccetera eccetera bene io mi auguro che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così riceverete una notifica ogni volta che esce un nuovo contenuto come quello che avete appena visto vi ricordo anche che nella sezione commenti di questo video troverete alcune risorse gratuite avrete la possibilità di parlare con il mio team per farvi aiutare nel marketing e potete avere più informazioni sui nostri percorsi di formazione consulanza e affiancamento noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo training ciao